Nessuno dovrebbe sentirsi costretto a battezzarsi a causa delle pressioni di un genitore, del fratello con cui studia la Bibbia o di altri componenti della congregazione. Questo non è il modo di fare di Geova. Al contrario, mentre insegniamo la Bibbia ad altri, dovremo sottolineare quanto sia importante che stringano una loro amicizia con Dio. Poi, saranno la gratitudine per le verità che hanno imparato e il desiderio di sottomettersi al gioco di Cristo a spingerli a battezzarsi. Non c'è un'età prestabilita per battezzarsi. Le persone non fanno progressi spirituali con la stessa velocità. Il giorno del battesimo è un giorno molto felice, ma è anche un momento per fare serie riflessioni. Vivere in armonia con la propria dedicazione, infatti, richiede molto impegno. Ecco perché Gesù disse che essere Suoi discepoli è come portare un gioco. I cristiani devono vivere non più per se stessi, ma per colui che morì per loro e fu destato. Secondo Corinti 5,15